Cambio ai vertici di Confcommercio Cremona. Nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo il Presidente Fausto Casarin ha annunciato le proprie dimissioni e quelle della sua giunta. Una decisione in linea con il mandato assunto dalla dirigenza di Palazzo Vidoni ormai un paio di anni fa, che aveva accettato di guidare l'associazione per un periodo ben preciso, necessario per traghettarla verso il rinnovamento. E così è stato. A bilancio il Presidente Casarin può vantare una serie di importanti risultati, tra i quali la costituzione o il rinnovo di molti gruppi come Terziario Donna, Confcommercio Innovazione, Gruppo Assicuratori e Gruppi Arredamento, Ottici, Federmoda, Macellai e Botteghe del centro di Cremona. Il momento dell'addio definitivo è però rimandato a giugno in occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario dell'ente e subito dopo l'approvazione del bilancio 2015. Due mesi di tempo per effettuare nuove consultazioni e nominare i nuovi vertici, che potrebbero riservare sorprese. Ci sono già alcuni nomillizza e non si tratta solo di uomini.